gloria a dio alleluia 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 grazie padre amen per la tua bontà per la tua misericordia per la tua presenza padre ti ringraziamo ancora alleluia in questa giornata signore lavaci con il sangue del tuo figliuolo gesù cristo illuminaci ancora con la tua parola signore vogliamo stare in contatto con te in comunione con te vogliamo stare nella tua presenza signore padre vogliamo camminare nelle tue vie nello spirito nella fede nell'ubidienza padre aiutaci ancora in questa giornata nel nome di gesù cristo alleluia illumina c'è ancora trasforma c'è ancora riempi c'è ancora vivificaci signore con la tua parola che vogliamo leggere ancora in questo momento signore apri i nostri cuori i nostri occhi le nostre menti cibaci con questo alimento spirituale che viene dal cielo padre alleluia 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 ti ringraziamo re di gloria nel nome di gesù perché tu sei santo tu sei benedetto tu sei il padre amorevole sei il maestro sei il re di gloria e noi siamo qui davanti a te prostrati signore con un cuore desideroso di essere alimentato dalla tua parola alimentato da te signore grazie nel nome di gesù nel nome di gesù rinnova i nostri cuori le nostre menti con la tua parola fortifica ogni fratello ogni sorella nel nome di gesù ti ringraziamo padre grazie gesù glorioso meraviglioso santo sei alleluia benedetto il nome del signore amén 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 gloria a dio gloria a dio gloria a dio alleluia 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 pace del signore a tutti cari fratelli cari sorelle vi saluto gloria a dio nell'amore del signore amén vogliamo continuare nella lettura biblica del vangelo di matteo amén ancora in questa giornata gloria a dio vangelo secondo matteo vogliamo leggere il capitolo 15 insieme gloria a dio amén in questo momento gloria al signore matteo 15 amén gloria a dio nel nome di gesù perché la parola di dio ci fortifica ci sostiene amén leggiamola fratelli meditiamola e questa parola è il cibo spirituale di cui abbiamo bisogno matteo 15 amén vi invito ad aprire le vostre bibbie gloria a dio alleluia dice così matteo 15 amén leggiamo dal verso 1 alla gloria di dio padre figlio e spirito santo amén e amén amén allora gli scrivi e i farisei di gerusalemme vennero da gesù e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani infatti non si lavano le mani prima di mangiare ma egli rispose disse loro e voi perché trasgredite il comandamento di dio a motivo della vostra tradizione dio infatti ha comandato così onora il padre e la madre e ancora chi maledice padre o madre sia punito con la morte voi invece dite chiunque dice al padre o alla madre tutto ciò con cui potrei sostenerti è un'offerta a dio e gli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre e così facendo voi avete annullato il comandamento di dio a motivo della vostra tradizione ipocriti ben profetizzò di voi isaia quando disse questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me e in vano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini alleluia poi chiamata se la folla disse loro ascoltate e intendete non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo ma è quel che esce dalla bocca che contamina l'uomo allora i suoi discepoli accostatisi gli dissero sai tu che i farisei gloria a dio scusate sai tu che i farisei a sentire queste parole si sono scandalizzati ma egli rispondendo disse ogni pianta che il padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata lasciateli sono guide cieche di ciechi e se un cieco guida un altro cieco ambe due cadranno nella fossa allora pietro rispondendo gli disse spiegaci questa parabola e Gesù disse neppure voi avete ancora capito non capite che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel ventre e viene espulso nella fogna ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore sono esse che contaminano l'uomo poi che dal cuore provengono pensieri malvagi omicidi adulteri fornicazioni furti false testimonianze maldicenze queste sono le cose che contaminano l'uomo ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo amèn verso 21 poi Gesù partito di là si diresse verso le parti di Siro e di Tidone scusatemi di Tiro e di Sidone gloria a Dio ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni si mise a gridare dicendo abbi pietà di me signore figlio di Davide mia figlia è terribilmente tormentata da un demone ma egli non le rispose una parola e i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro ma egli rispondendo disse io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele ella però venne e lo adorò dicendo signore aiutami ma egli le rispose dicendo non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini ma ella disse sì signore però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni allora Gesù le rispose dicendo oh donna grande è la tua fede ti sia fatto come tu vuoi e in quel momento sua figlia fu guarita alleluia gloria al signore verso 29 poi partito di là Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte là si pose a sedere e grandi folle si accostarono a lui recando con sé zoppi ciechi muti storpi e molti altri li deposero ai piedi di Gesù ed egli li guarì tanto che le folle si meravigliavano nel vedere che i muti parlavano gli storpi erano guariti gli zoppi camminavano i ciechi vedevano e glorificavano il Dio di Israele amén alleluia gloria al Signore poi Gesù chiamati a sé i suoi discepoli disse io ho pietà della folla perché sono già tre giorni che sta con me e non ha niente da mangiare eppure non voglio licenziarli digiuni affinché non vengano meno lungo la strada alleluia e i suoi discepoli gli dissero dove potremmo procurarci in un luogo deserto abbastanza pane per sfamare una folla così grande e Gesù disse loro quanti pani avete essi dissero sette e pochi pesciolini comandò allora alle folle che si mettessero a sedere per terra poi prese i sette pani e dopo aver e i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò li diede ai suoi discepoli e i discepoli alla folla e tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati ne raccolsero sette panieri pieni gloria a Dio ora coloro che avevano mangiato erano quattromila uomini senza contare le donne e i bambini gloria al Signore ora coloro che avevano mangiato erano quattromila uomini senza contare le donne e i bambini poi licenziate le folle egli salì in barca e si diresse nella regione di Magdala amén gloria a Dio vogliamo ringraziare il Signore per questa parola amén pregare insieme amén qualche minuto per qualche richiesta che è arrivata gloria a Dio amén vogliamo ringraziare Dio per questa parola che questa parola diventi vita nei nostri cuori che ci illumini trasformi i nostri cuori ci fortifichi amén per andare avanti nelle vie del Signore amén gloria a Dio vogliamo insieme invocare il nome di Cristo e poi continueremo a leggere ancora il capitolo 16 amén alleluia padre d'amore oh Dio del cielo Dio di Israele abbiamo letto questa parola Signore questa parola meravigliosa la tua parola che ci insegna che ci illumina Signore che ci trasforma padre la tua parola è vita alleluia la tua parola libera il cuore trasforma il cuore illumina Signore la tua parola è fonte di vita e di miracoli padre nel nome di Gesù siamo qui uniti insieme padre nella tua presenza coi fratelli con le sorelle ti preghiamo Signore riversa il tuo spirito Signore cambia i nostri cuori fortifica i nostri cuori purificali da ogni male perché abbiamo letto che il male ogni male procede dal cuore dell'uomo Signore ma ti preghiamo purifica i nostri cuori faccia avere un cuore puro padre alleluia nel nome di Gesù Cristo benedetto il nome del Signore ti preghiamo lava i nostri cuori rinnova riempi i nostri cuori con la tua presenza con il tuo amore con la tua luce padre nel nome di Gesù gloria al Signore alleluia 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 intervieni in questa giornata Signore stendi la tua mano di guarigione alleluia veniamo a te Signore come quella donna alleluia cananea ma noi siamo tuoi figli Signore alleluia se tu hai guarito la figlia di quella donna cananea Signore quanto più puoi guarire i tuoi figli le tue figlie le nostre case Signore che siamo il tuo popolo Signore siamo la tua chiesa Signore noi non siamo orfani noi non siamo stranieri noi non siamo Padre sconosciuti da te Signore ma siamo i tuoi figli siamo la tua chiesa siamo il tuo popolo Signore ti presentiamo ogni bisogno Signore le famiglie Signore le richieste che arrivano Padre te le presentiamo a te nel nome di Gesù Cristo ogni richiesta alleluia per ogni famiglia per ogni matrimonio Signore per i figli delle mie sorelle per i mariti delle mie sorelle per i parenti delle mie sorelle per i parenti dei miei fratelli per le mogli per i figli le figlie Signore stendi la tua mano libera Padre libera Signore dalle tenebre libera Signore dall'oppressione come tu hai liberato la figlia della donna cananea che era tormentata da un demone Signore così libera alleluia i nostri parenti i nostri familiari i nostri figli inconvertiti Signore spezza le tene Signore sgrida i demoni nel nome di Gesù scaccia via il maligno nel nome di Gesù Cristo Padre sia spezzata ogni catena ogni legame ogni laccio si rompa nel nome di Gesù ti chiediamo guarigione liberazione per le famiglie per le case per le famiglie o delle mie sorelle che chiedono di pregare per i miei fratelli che chiedono di pregare intervieli Signore i bisogni sono tanti ma la tua potenza può supplire a ogni bisogno tu sei l'iddio vivente l'iddio onnipotente l'iddio dei miracoli l'iddio di Israele Signore tu che guarivi gli storpi i ciechi i zoppi alleluia i paralitici lebrosi Signore alleluia i muti i sordi tu che risuscitavi i morti ancora oggi puoi fare meraviglie miracoli prodigi io lo credo Signore manda la tua parola stendi la tua mano intervieni liberando Signore dal peccato dai vizi dai legami dalle malattie stendi la tua mano di misericordia alleluia la rama shaide che meressea la rama ti richisciere beco ti lodiamo ti glorifichiamo lavaci lavaci purificaci da ogni iniquità da ogni iniquità da ogni iniquità lavaci lavaci facci avere un cuore puro pieno di fede pieno d'amore pieno della tua presenza Signore che la tua parola che stiamo leggendo faccia effetto nel nostro cuore illumini purifici il nostro cuore Signore facci avere una mente spirituale per capire una mente concentrata una mente unta di Spirito Santo mentre leggiamo e leggeremo ancora la tua parola Signore noi abbiamo bisogno di te alleluia alleluia figlio di Dio re glorioso re meraviglioso lasciamo unicosa ai tuoi piedi presentiamo unicosa davanti a te padre alleluia 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 senza senza farci bloccare dalle circostanze senza farci intimorire Signore dalle circostanze ma guardando a te Gesù che sei la gloria di Dio la potenza di Dio dacci quella sapienza che abbiamo bisogno padre alleluia rama shabakai l'arama sitere bechea alleluia nel nome di Gesù Signore facci stare uniti con i fratelli e le sorelle padre anche tramite questi mezzi di comunicazione vogliamo servirti e renderti un culto Signore e poter cedificare nella tua presenza guida tu ogni riunione che si farà padre nel nome di Gesù benedetto in eterno gloria al tuo nome ti amo ti lodo Gesù grazie alleluia gloria a Dio alleluia 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 gloria gloria all'eterno gloria intervieni in ogni bisogno in ogni famiglia fortifica ogni fratello ogni sorella con la potenza con la potenza dello Spirito Santo abbiamo bisogno riempi di forza di pace di gioia e soprattutto dell'amore di Cristo perché alleluia l'amore di Cristo che può ogni cosa alleluia per andare avanti alleluia nel nome di Gesù grazie grazie riceviamo una fresca unzione riceviamo una nuova unzione riceviamo l'unzione di Dio alleluia 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 gloria 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 al padre al figlio allo Spirito santo grazie grazie Gesù benedetto ammen alleluia 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 oh gloria 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 stendi la tua mano opera potentemente in ogni famiglia qui rappresentata dei miei fratelli che sono qui delle mie sorelle che sono qui e di ogni fratello Signore alleluia che conosciamo e anche quelli che non conosciamo padre ogni fratello ogni sorella nel nome di Gesù intervieni in ogni luogo da nord a sud da est a ove Signore alleluia 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 sì padre alleluia nel nome di Gesù gloria a Cristo alleluia alleluia nome di Gesù benedetto dichiariamo la vittoria nel sangue di Cristo alleluia siamo più che vincitori nel nome del Signore la vittoria appartiene al popolo di Dio alleluia per l'opera del Calvario dove Gesù ha morto e ha distrutto il male alleluia ed è risuscitato e siede alla destra del Padre intercede per noi amén gloria a Dio alleluia vogliamo continuare nella lettura biblica dall'Evangelo di Matteo capitolo 16 vogliamo leggere anche questo capitolo per cibarci spiritualmente amén poi vi ricordo che Dio piacendo alleluia stasera alle ore 20 amén cambieremo l'orario delle riunioni per venire incontro anche a qualche sorella qualche fratello che per loro è un orario migliore poi magari aggiusteremo ancora gli orari amén questa sera faremo alle ore 20 alleluia la riunione la riflessione biblica dove con l'aiuto del Signore e per la sua gloria amén continueremo a parlare riguardo alle piaghe dell'Egitto amén e Dio per certo ci edificherà amén gloria a Dio questa sera alle ore 20 preghiamo pregate per me che Dio mi unga mi dia forza mi dia saggezza che ho tanto bisogno fratelli e sorelle amén anche qui vi racconto brevemente così pregate per me che Dio mi sostenga mi rafforzi perché purtroppo non ancora ho trovato una comunità dove il mio cuore può essere cibato con la parola di Dio purtroppo è da circa tre settimane che non sto frequentando nessuna comunità fratelli perché ci sono situazioni un po' particolari il Signore sa il motivo gloria a Dio ma io sono sempre nella grazia nella presenza del Signore la mia vita a Lui amén alleluia io dipendo da Lui però pregate che Dio mi guidi a trovare fratelli una comunità dove c'è la guida dello Spirito Santo e dove anch'io posso ristorarmi alleluia nella parola amén certamente qui anche Dio ci benedice amén ci parla ci fortifica anche qui è possiamo dire una chiesa una comunità anche se noi siamo in posti lontani però uniti nello Spirito non ci sono distanze però io in questi periodi ho passato un po' di travaglio sotto quell'aspetto che non riesco a trovare io sto pregando che Dio mi guidi a una comunità dove veramente c'è c'è la potenza dello Spirito Santo dove veramente si dà quella libertà allo Spirito di Dio di agire non dove ci sono le tradizioni umane dove ci sono gli schemi umani fratelli perché il cuore non viene edificato allora pregate per me che Dio mi sostenga e mi guidi per la sua gloria amén alvia nel nome potente di Gesù Cristo il Signore purtroppo anche qui c'è una carestia spirituale in molte comunità amén e la situazione non è facile nelle chiese fratelli io lo sto vedendo perciò non è facile trovare una comunità dove l'anima e il cuore vengono saziati da parte di Dio perciò fratelli preghiamo preghiamo anche per queste situazioni che so che anche molti di voi vivono pure dove si trovano amén purtroppo siamo negli ultimi tempi e c'è un degrado fratelli mi dispiace dirlo c'è un degrado in molti ambienti e c'è una superficialità c'è un ritualismo un tradizionalismo fratelli un formalismo che non giova a nulla e l'anima dei credenti viene fratelli danneggiata per così dire allora noi dobbiamo pregare che Dio ci guidi dove veramente ci sono degli uomini unti arresi allo Spirito Santo dove c'è il fuoco dove c'è veramente la vera parola di Dio dove c'è veramente l'opera del Signore abbiamo bisogno fratelli io sotto questo aspetto sto un po' travagliando ma so che Dio permette ogni cosa per il bene amén alleluia amén vogliamo continuare nella lettura biblica gloria a Cristo alleluia amén grazie a Dio dipendiamo da Gesù amén però è buono ed è piacevole trovare una comunione anche fraterna cari io purtroppo mi dispiace per adesso non ho trovato ancora dei cari fratelli con i quali condividere con i quali purtroppo fratelli io sento questa necessità e per adesso qui ho passato un po' qualche travaglio però il Signore è fedele alleluia lui è con me e la sua presenza mi consola mi conforta mi rinnova ogni giorno alleluia e grazie a Dio abbiamo anche queste riunioni fraterne queste riunioni spirituali qui che comunque ci sostengono Dio ci parla Dio ci benedice gloria a Dio amén vogliamo leggere alleluia ancora il capitolo 16 qui dell'Evangelo di Matteo amén Matteo capitolo 16 amén gloria a Dio vogliamo leggere dal verso 1 dice così la santa parola di Dio amén poi si accostarono a Lui i farisei e i sadducei e per tentarlo li chiesero di mostrare loro un segno dal cielo amén amén alleluia ma Egli rispose loro e disse quando si fa sera voi dite farà bel tempo perché il cielo rosseggia e la mattina dite oggi farà tempesta perché il cielo tutto cupo rosseggia ipocriti ben sapete dunque discernere l'aspetto del cielo ma non riuscite a discernere i segni dei tempi alleluia una generazione malvagia ed adultera richiede un segno ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona e lasciatili se ne andò quando i suoi discepoli furono giunti all'altra riva ecco avevano dimenticato di prendere del pane e Gesù disse loro state attenti amén e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei ed essi ragionavano fra loro dicendo è perché non abbiamo preso del pane ma Gesù accortosene disse loro o uomini o uomini di poca fede perché discutete tra di voi per non aver preso del pane non avete ancora capito e non vi ricordate dei cinque pani per i cinquemila uomini e quante ceste ne avete raccolto e dei sette pani per i quattromila uomini e quanti panieri ne avete raccolto come mai non capite che non mi riferivo al pane quando vi dissi di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei allora essi capirono che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane ma della dottrina dei farisei e dei sadducei amèn gloria a Dio signore aiutaci poi Gesù giunto dalle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia ed essi dissero alcuni Giovanni Battista altri Elia altri Geremia o uno dei profeti egli disse loro e voi chi dite che io sia e Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente alleluia allora Gesù rispondendo gli disse tu sei beato o Simone figlio di Giona perché nella carne nel sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli alleluia e io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere amén e io ti darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo da quel momento Gesù cominciò alleluia Gesù cominciò a dichiarare i suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani dei capi dei sacerdoti degli scribi essere ucciso e risuscitare il terzo giorno allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo signore Dio te ne liberi questo non ti avverrà mai ma egli voltatosi disse a Pietro vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo amén perché non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini amén gloria al Signore hallelujah verso 24 allora Gesù disse ai suoi discepoli se qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua se qualcuno vuole venire dietro a me hallelujah rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà hallelujah che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima o che darà l'uomo in cambio dell'anima sua perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo con i suoi angeli e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno amén gloria a dio che questa parola rimanga nei nostri cuori cari nel signore e la possiamo continuare a meditare a ricordare a riflettere durante tutta questa giornata amén che questa parola rimanga gloria a dio come un seme incorruttibile e porti dei frutti alla gloria di dio per la vita eterna e che noi possiamo vedere il germogliare di questa preziosa meravigliosa gloriosa e potente parola di vita nei nostri cuori vogliamo ringraziare ancora il signore per la sua parola gloria a dio prima di finire amén alleluia alleluia padre oh signore ti ringraziamo per questa lettura biblica signore per tua parola che è verace è veritiera è potente signore la tua parola è viva signore facci discernere i tempi che stiamo vivendo facci avere gli occhi spirituali ben aperti signore perché noi abbiamo capito grazie a te oh dio che gesù è il cristo il figlio del dio vivente noi vogliamo stare saldi su questa verità perché noi veniamo signore sostenuti da te signore questa è la roccia padre cristo il tuo figlio alleluia noi vogliamo stare attaccati a lui vogliamo stare attaccati a gesù vogliamo stare attaccati al cristo al signore la parola la verità signore che questa parola riempie il nostro cuore in questo momento che questa parola padre ci fortifichi questa parola alleluia ci riempia ci alimenti ancora padre questa parola gloria a dio ci rinnovi signore fai un'opera nuova nelle nostre vite abbiamo bisogno padre di nuove forze per andare avanti nel cammino alleluia rinnovi rinnovi la nostra mente togli via ogni pensiero malvagio carnale negativo caccia via padre mio qualsiasi pensiero che disturba faccia avere padre una mente pura illuminata rinnovata dalla tua grazia dalla tua presenza dalla tua parola nel nome di gesù ti ringrazio o benedetto il dio grazie signore nel nome di gesù abbi pietà di ognuno di noi del tuo popolo rafforza ravviva rinnova la tua chiesa signore padre nel nome di gesù guida i nostri passi nelle tue vie nei tuoi sentieri nella tua perfetta volontà guida i passi dei miei fratelli delle mie sorelle guida i miei passi padre nel nome di gesù cristo amén alleluia liberaci da ogni lievito di dottrine umane da ogni lievito di dottrine false di dottrine padre che non vengono da te e facci rimanere saldi sulla roccia di cristo gesù il signore e fai sì padre aiutaci avere il discernimento alleluia avere l'intendimento la conoscenza e ti prego aiutaci mio dio alleluia seguirti con amore stare attaccati a te signore alleluia 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 a rinegare noi stessi a prendere la croce e a seguirti signore perché noi ti amiamo noi siamo tuoi vogliamo vedere la tua gloria insegnaci a camminare con te insegnaci a dipendere da te signore in questi tempi difficili che l'umanità sta vivendo signore e che anche le chiese stanno vivendo fortifica i nostri fratelli in ogni luogo le nostre sorelle signore ravvivalo per la tua in questi tempi alleluia ravvivalo per la tua in questi tempi libera signore dai legami signore dagli schemi dalle cose umane che non vengono da te signore nel nome di gesù che ci sia la potenza la pienezza la gioia dello spirito santo in mezzo al tuo popolo padre alleluia ti ringraziamo ti adoriamo re di gloria prezioso salvatore gesù grande pastore delle pecore tu sei l'acqua della vita il pane della vita noi ci rifugiamo in te ancora in questa giornata e vogliamo continuare a camminare con te continua signore a sostenere i tuoi figli le tue figlie e noi ti renderemo la gloria la lode e il ringraziamento l'adorazione per sempre padre grazie 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 nel nome di gesù nel nome di gesù benedetto benedetto in eterno gloria al signore amen gloria a dio rimanete nella pace cari fratelli cari sorelle rimanete nella presenza di dio sulla roccia rimaniamo attaccati a lui non importa le circostanze ma rimaniamo aggrappati a cristo amen perché in cristo abbiamo la vittoria amen dio vi continua a illuminare nel nome di gesù a dio piacendo ci vedremo alle ore 20 per la gloria di dio nel nome di cristo il benedetto in eterno amen amen gloria a dio